un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo video di orientamento sull'utilizzo del camper oggi andremo a vedere quelli che sono i settaggi principali quindi il menu system andremo a scoprire qualche parametro interessante anche qualche funzione che magari non ci aspettiamo che il camper abbia ma che potrebbe tornarci poi utile in qualche occasione la prima posizione dello switch a sinistra permette di accendere il camper in posizione tuner quindi abbiamo come potete vedere l'accordatore da questa posizione possiamo già entrare nel menu system quindi premiamo il tasto system bene allora iniziamo dai primi parametri intanto controlliamo di essere la pagina 1 di 18 il primo pulsante che possiamo premere per fare la prima modifica è appunto edit owner entriamo e andiamo a vedere la possibilità di cambiare il nome del proprietario e il nome della macchina ok non facciamo altro che muoverci usando type e browse ok e possiamo cambiare il nome chiaramente classiche funzioni insert delete eccetera con exit torniamo indietro ok questo tasto poi init globals serve per riportarlo alle impostazioni globali di fabbrica ok evitiamo per il momento l'impostazione successiva è il dialogo di startup benvenuto eccetera eccetera next settiamo data ora qua potete mettere il nome che magari non avete già messo prima ok e let's go poi abbiamo l'ultima factory rigs ok vuoi importare tutti i factory rigs io in questo momento non ne ho bisogno quindi premo cancel altrimenti premerei ok troviamo poi sotto altre regolazioni che dipendono dalle quattro manopole praticamente allora il contrasto semplice brightness quindi la luminosità bilanciamento del bianco che in questo con questo colore cambia veramente poco e poi questa funzione qua attenzione line frequency non c'entra niente con il display ma va a lavorare sul noise gate o meglio serve per andare a riconoscere quelli che sono i rumori di rete quindi noi in italia abbiamo i 50 hertz e di rimuoverli all'occorrenza questa funzione ci aiuta in parte perlomeno a rimuovere una serie di rumori che possono provenire appunto le varie ronde di rete oppure gli home classici dovuti ai 50 hertz la pagina 2 ci aiuta a regolare al meglio quelle che sono le luminosità di tutti i led frontali del camper partendo ad esempio dalla funzione led collar che in questa quadratura viene fuori meglio in cui andiamo appunto a cambiare la luminosità dei collari questo vale solo per il camper head attorno a queste manopole principali questo valore io lo tengo ottimo tale che il led lavori con poca corrente e tutte le variazioni che vado a fare poi muovendo le manopole non siano in qualche modo dannose appunto per i led andiamo a vedere poi le altre funzioni con color leds vado a muovere la luminosità dei led colorati con buttons invece vado a lavorare sulla luminosità dei led appunto dei pulsanti l'ultimo è legato al tap anche qui possiamo vedere il cambio di luminosità un consiglio che vi voglio dare è che appunto il led di tap non lo teniate troppo acceso perché in un palco a mio avviso può dare un pochettino fastidio quindi tenetelo leggermente più giù andiamo avanti pagina 3 nella pagina 3 ci sono un'altra serie di funzioni interessanti ora abbiamo terminato quelle un po' più banali la prima rig autoload cosa significa significa che quando siamo all'interno del menu browser ad esempio ok e vado in giro per il menu come trovo una voce che mi interessa automaticamente viene caricata in caso contrario con rig autoload non selezionato ok non farò altro che girare per il menu e se voglio caricare un determinato rig devo premere appunto il tasto load io preferisco avere l'autoload incorporato dopodiché troviamo rig button morph ok questa funzione è legata alla funzione di morphing ok lasciatela inserita che andate meglio nel momento in cui la dovrete utilizzare altra funzione importante auto favorite il camper divide i rig in selezionati quindi favoriti e non favoriti nel momento in cui andiamo all'interno di un rig e lo andiamo a salvare automaticamente quel rig ci diventa favorito io preferisco lasciarlo inserito in modo tale che ogni volta che vado a lavorare in un rig anche che non conosco perché mi ha incuriosito automaticamente diventa già uno dei preferiti e lo posso ritrovare poi selezionando la scelta appunto di questo menu il camper ha un pulsante che si chiama quick e lo impostiamo qui cosa impostiamo impostiamo cosa vogliamo trovare all'interno di quel pulsante ad esempio le funzioni del morphing la pagina di edit la vogliamo vedere sempre che versione abbiamo del camper oppure semplicemente come faccio io avere il midi setting io adesso se premo quick ok mi viene fuori la pagina del midi setting che è all'interno del menu system tra l'altro quindi seleziono una di quelle pagine per trovarla immediatamente l'ultimo parametro è performance load a cosa serve questa funzione è legata alla remote e alla funzione performance vedete che ci sono tre parametri pending slot 1 e keep slot la spiegherò meglio quando passeremo a un video sul remote in pratica spiegandolo velocemente muovendosi all'interno del remote posso fare in modo che ogni volta che mi muovo la performance venga caricata o che venga caricata una volta che ho scelto il banco menu successivo pagina 4 allora troviamo rig x fade time interessante funziona anche questa ci permette di fare in modo che il rig precedente entri per un tot di secondi nel rig successivo quindi il classico spillover del riverbero o del delay sto suonando una solo e rientro in ritmica le ultime ribattute del delay causato nella solo mediamente non le sentirei con questa funzione le sento io l'ho impostato non molto lungo perché voglio che la macchina lavori velocemente è chiaro che se due righe si intersecano un pochettino di rallentamento nel cambio ce l'ho livello del loop effetti posso andare da più 6 a meno 6 questa funzione serve quando vado a collegare un loop esterno di effetti tramite le uscite e gli ingressi posteriori il classico send a return l'ultimo parametro latenza costante vi consiglio e lo consiglia anche la casa madre di non selezionarlo proprio perché la macchina così lavori il più libera possibile il più velocemente possibile dalla pagina 5 alla pagina 12 quindi andiamo a vedere la pagina 13 parliamo di tutte le impostazioni legate a pedali e remote cosa che vedremo in un altro video adesso noi cerchiamo di essere più efficaci possibili torniamo nella schermata midi che io ho selezionato nel menu quick in pratica vado a lavorare sui potenziali program change ogni suono per un massimo di 127 può essere catalogato in un canale program change del midi se io vado a muovere la manopola potete vedere che va a cambiare il program change a cui io posso assegnare il suono io adesso non tocco niente altrimenti vado a rovinarmi la mia programmazione ok cambio pagina ancora 14 di 18 in browse mode non è selezionabile è una pagina che riguarda le performance per quanto riguarda altri settaggi midi pagina 15 ok abbiamo la possibilità di selezionare il canale di trasmissione midi che vogliamo usare quindi dalla omni cioè da tutti i 16 canali fino all'uno a me al momento interessa solo il canale 1 ma chiaramente i 16 canali ci permettono di pilotare vari parametri ok e questo è il monitor volume che possiamo comandare già esternamente io lo lascio a 127 perché posso variare il volume all'interno di altri menu send midi clock serve per altre macchine ok che devono sincronizzarsi tra loro pagina 16 ho ancora data e ora che posso nuovamente settare pagina 17 mi permette di cancellare i non preferiti ok io solitamente non la utilizzo lavoro con rig manager per andare a vedere cosa cancello e cosa no si sa mai che cancelli un rig che sto usando puro così com'è l'ultima pagina al 18 di 18 ci fa un riassuntino ci dice il seriale della macchina che versione io ho ancora la beta 5.2 ok e quando ho fatto l'ultimo aggiornamento entrando su dettagli ok ci sono una serie di altri parametri molto molto interessanti praticamente sono gli stessi di prima con l'aggiunta dell'id della cpu quindi può tornare utile per l'assistenza e quant'altro premendo il tasto exit e di nuovo exit torniamo in modalità browser per andare a vedere poi input e output come menu da questa è la esperienza